Noi siamo quello che mangiamo, si dice, ma il modo in cui mangiamo sta uccidendo il nostro pianeta. Ma per fortuna c'è chi resiste. Noi siamo un'associazione che vuole cambiare il mondo, che ha l'interesse a salvare il pianeta praticando il piacere. Ma chi è Carlo Petrini? E' il mio miglior amico. Diciamo che lo conosco dal 1953-54. Anche quando si giocava da bambino, lui è uno che aveva delle grandissime idee. Si può dire quasi come se fosse un vulcano. Uno alto, uno piccolo. Carlino era un po' più grasso. Eravamo anche, diciamo così, fisicamente, tra virgolette, attraenti. Contro coloro, e sono i più, che confondono l'efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un'adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento. Il slow movement toward respecting food has served as a marvelous example of the slow revolution. Slow food is making you think differently. Non è più una questione di astice blue bretonne o caviale o foie gras. Se il mondo resiste, il mondo lo dovrà a gente come voi. Gente che ha nelle sue mani l'avvenire della terra.